Un incendio ha provocato gravi danni nei sotterranei dell'ex ospedale di Suma, Brindisi. Nessuna conseguenza per il laboratorio molecolare per l'esame dei tamponi che partirà venerdì e che è collocato in un altro padiglione. Avrebbero innescenato l'acquisto di mascherine per poi picchiare commerciante cinese e fuggire con 12.000 mascherine, arrestati due fratelli di Erchie. 89 casi risultati positivi all'infezione Covid-19 coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia. In attesa del ritorno al calcio giocato, il Lecce si gode in La Padula, bomber ritrovato. Intanto la B mette gli occhi sul Francavilla, del vino e Mastropietro, oggetto del desiderio di tre club del campionato cadetto. Buonasera e ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 85. Bollettino epidemiologico della regione Puglia, giornata odierna, parla di 89 casi risultati positivi all'infezione da Covid-19 coronavirus. Ed allora il punto della situazione nel nostro primo servizio. 89 i casi risultati positivi nelle ultime 24 ore in Puglia. E' stato il governatore Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ad informare che nella giornata di venerdì 26 marzo, nel Tacco d'Italia, sono stati effettuati 968 test per l'infezione Covid-19 coronavirus. 89 quelli risultati positivi, 28 nella provincia di Bari, 13 nella provincia Bat, 3 in quella di Brindisi, 12 nella provincia di Foggia, 12 nella provincia di Lecce e 17 nel Tarantino. 4 sono i casi non attribuiti. Ad oggi sono stati registrati 17 decessi, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 9191 test e così il numero totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia sale a 1182. I Dipartimenti di Prevenzione dell'Ansl hanno, come sempre, attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. E come abbiamo sentito, questo è il bollettino della regione Puglia relativo alla giornata di oggi. 17 i decessi in un giorno, mai così tanti. Ed allora, dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per coronavirus in Italia. Oggi sono 4.492 in più, mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedì 3.612 e lunedì 3.780. Il numero delle vittime è oggi di 662, con un calo rispetto a ieri, quando erano 683. Mentre il martedì l'aumento era stato di 743. Ed è importante che ci sia un rallentamento della curva, ma non possiamo aspettarci un'improvvisa diminuzione. Dobbiamo osservare nei prossimi giorni gli effetti delle decisioni prese. Stiamo già analizzando la ragione del piccolo incremento di oggi. L'ipotesi è che ci sia stato un accumulo dei risultati di tamponi fatti nei giorni precedenti. Ma la cosa importante è la velocità di incremento della curva, che apparentemente sembra rallentare. Questo è quanto ha dichiarato il vice capo della protezione civile, Agostino Miozzo. Ci spostiamo per un momento a Taranto. Parliamo del siderurgico ionico, perché fino al 3 aprile, a causa dell'emergenza coronavirus, nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto è sospesa l'attività produttiva e i fini commerciali. Viene solo garantito il mantenimento e la salvaguardia in pianti e sicurezza, con l'impiego di 3.500 lavoratori diretti e 2.000 dell'indotto nelle 24 ore. E quanto stabilisce, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, un decreto del prefetto di Taranto, Demetrio Martino, in corso di emanazione. L'azienda, peraltro, aveva già ridotto la forza lavoro giornaliera sui tre turni tra le 3.600 e le 3.800 unità e proceduto alla fermata di diversi impianti, tra cui l'acciaieria 1 e l'alto forno 2. Ora è in corso una riunione tra l'azienda e i rappresentanti di FIM, FIOM, Wilmo, SB e UGL anche sulla questione del ricorso alla cassa integrazione speciale Covid-19. Il prefetto è l'autorità di governo a cui spettava, lo ricordiamo, in base all'ultimo decreto governativo, la decisione sulla prosecuzione dell'attività del siderurgico. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un assetto di marcia al minimo tecnico in assetto di comandata per scongiurare il rischio di una esplosione di contagi. Ed andiamo avanti, parliamo di Brindisi, perché c'è stato un incendio sviluppatosi quest'oggi, poco prima dell'alba, che ha provocato gravi danni nei sotterranei dell'ex ospedale di Suma, appunto nella città adriatica. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il laboratorio molecolare per l'esame dei tamponi che partirà venerdì e che è stato collocato in un altro padiglione. A 24 ore dall'apertura del laboratorio molecolare per l'esame Covid-19 dei tamponi faringei, un incendio si è sviluppato nei sotterranei dell'ex ospedale di Suma di Brindisi. Le fiamme hanno interessato alcuni locali che custodiscono i vecchi archivi cartacei dell'ASL e hanno distrutto centinaia di faldoni contenenti documenti e vecchie cartelle cliniche. Il rogo si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì e ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme potessero interessare anche la parte superiore dell'edificio che ospita, fra l'altro, la guardia medica, il poliambulatorio per la vaccinazione e le sedi degli istituti Medea e la nostra famiglia. Ad accorgersi del fumo, gli addetti e la guardiania che hanno richiesto immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sono giunte in un primo tempo due squadre di pompieri, ma viste le dimensioni dell'incendio e soprattutto la facilità con cui si stava propagando a causa della carta che bruciava, è stato richiesto l'intervento di altri uomini e mezzi. Per il momento poco chiare le cause del rogo. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, ma non vengono escluse altre possibilità, compresa la matrice dolosa. Nella giornata di venerdì, sempre presso il disumma, ma in un altro padiglione, sarà attivato il laboratorio di biologia molecolare per l'analisi dei tamponi. Il primario dell'unità operativa complessa di patologia clinica, Angelo Santoro, ha rassicurato sul fatto che l'episodio non provocherà ritardi nell'avvio del laboratorio. E da oggi sono attivi dieci laboratori per la diagnosi del Covid-19 in Puglia, quello del Policlinico di Bari, del Fazzi di Lecce e del Riuniti di Foggia. Si sono aggiunti l'istituto zooprofilattico di Foggia, patologia clinica di Barletta, il di Venere di Bari, il laboratorio zooprofilattico di Putignano, Miulli di Acquaviva delle Fonti ed ancora Santissima Annunziata di Taranto, l'ospedale di Galatina. A breve dovrebbe essere attivo anche il laboratorio dell'ospedale Perrino di Brindisi, come abbiamo ascoltato nel servizio. Il problema principale però resta l'approvvigionamento dei reagenti per eseguire i tamponi, come dichiarato dal governatore di Puglia, Michele Emiliano, c'è una carenza e arrivano scorte a singhiozzo. Al momento infatti non si riesce a refertare, secondo quanto dichiarato sempre dal presidente della regione Puglia, Emiliano, non più di 800-900 tamponi al giorno. Rapinano un commerciante cinese e poi fuggono con 12.000 mascherine. Sono stati arrestati due fratelli di Erchie. Le mascherine di questi tempi, si sa, sono introvabili e in due, pur di ottenerle, hanno messo in atto un teatrino sfociato in rapina. Si tratta di due fratelli di Erchie di 30 e 23 anni che, per conquistarsi la fiducia di un commerciante cinese, hanno ordinato 450 mascherine TNT, tessuto non tessuto. Poi un altro ordine, questa volta più consistente, 12.000 mascherine al prezzo di un euro l'una. A garanzia dell'ordine, del valore di 12.000 euro, hanno consegnato un assegno bancario di 8.000 euro. Una volta che il materiale ordinato è stato consegnato all'esercente commerciale dal Corriere, hanno fatto scattare il piano della rapina. Uno dei due fratelli si sarebbe recato presso il rivenditore cinese, convincendolo a caricare le mascherine nella sua autovettura e a seguirlo per procedere alla vendita diretta di una parte delle mascherine, al fine di coprire i restanti 4.000 euro mancanti al saldo della merce. Con le auto si sarebbero diretti verso la zona industriale di Oria, dove lì ad attenderli c'era il fratello, 23enne, con la sua autovettura e dopo aver caricato il materiale avrebbero minacciato il negoziante cinese con l'uso di un coltello e lo avrebbero colpito con dei pugni in testa ripetutamente, costringendolo a consegnare anche l'assegno. Immediata la denuncia e le ricerche da parte dei carabinieri di Oria e di Erche, che hanno rintracciato e arrestato i presunti autori con l'accusa di rapina aggravata e lesioni. I due fratelli, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E come vi abbiamo comunicato in apertura di questa edizione del telegiornale, è giunto il bollettino ufficiale da parte della Regione Puglia relativamente ai test effettuati quest'oggi nelle ultime 24 ore, 89 dunque nuovi casi positivi. Noi come sempre diamo i numeri che ci giungono da fonti ufficiali, numeri che parlano relativamente alla provincia di appartenenza dei pazienti. Nell'attesa poi che fonti altrettanto ufficiali decidano, qualora lo volessero, di comunicare il comune di appartenenza, facciamo poi il punto della situazione di quello che ci giunge sempre ufficialmente, perché aumentano i contagi dal coronavirus all'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli e i casi ufficiali al momento sono in tutto 9. Ascoltiamo. Sale il numero dei positivi all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Dopo i primi tre casi accertati nei giorni scorsi nel reparto di medicina, arriva la positività di un altro medico e quattro pazienti. In tutto sono 9 i contagiati al coronavirus. Per tutti sono già state avviate le procedure di prevenzione e gli operatori sanitari già posti in quarantena obbligatoria. Dopo un'anticipazione resa dal consigliere comunale Flavio Fasano, la conferma arriva anche dal sindaco Stefano Minerva, il primo cittadino di Gallipoli, precisa che i quattro tamponi positivi non riguardano cittadini gallipolini. Auguro loro una pronta guarigione e invito nuovamente tutti a non lasciare la propria abitazione. I casi positivi a Gallipoli ad oggi sono in totale 5. Intanto nelle scorse ore il personale della protezione civile e la Croce Rossa italiana sezione di Lecce hanno montato all'esterno dell'ospedale Gallipolino la tenda pre-triage per poter permettere al personale infermieristico di controllare la temperatura corporea e chiunque faccia ingresso nel presidio. 15 i casi accertati nel solo capoluogo Tarantino, mentre sono 70 le persone in sorveglianza. Questi sono i dati forniti ufficialmente dall'assessore Vigiano, alla quale il sindaco ha conferito nuovamente la delega all'ambiente e vi ricordo i dati al momento ufficiali, naturalmente in attesa poi della ripartizione comune per comune dei risultati giunti davvero poco fa, intorno alle 19 da parte della regione Puglia. 15 dei 56 casi accertati di coronavirus in provincia di Taranto riguardano il capoluogo. Il dato è complessivo, ovvero da quando è iniziata l'emergenza. Ad annunciarlo ufficialmente l'assessore comunale Francesca Vigiano, alla quale il sindaco Melucci ha conferito in aggiunta alle deleghe già affidate quelle all'ambiente, all'emergenza epidemiologica e alla gestione dei flussi informativi. È stato ritenuto che in questo momento la cittadinanza tarantina avesse diritto al maggior numero di informazioni sull'andamento dell'emergenza Covid-19. Per ciò che riguarda il capoluogo, quindi la nostra città, i casi positivi sono 15, inclusi ricoverati e circa 70 persone sottoposte a sorveglianza. Volevo ringraziare quanti già oggi, ma anche nei giorni scorsi, hanno donato al centro operativo comunale e quindi alla città dispositivi di protezione individuali, dei quali magari nei prossimi giorni vi daremo ulteriori aggiornamenti. Il sindaco, le istituzioni e le forze dell'ordine sono tutte al lavoro per combattere questa emergenza. Mi raccomando, voi rimanete a casa, perché solo rimanendo a casa si può sconfiggere il coronavirus ed il contagio. Ed ufficializzato ieri in tarda serata il secondo cittadino positivo al Covid-19 a Grottaglie. Confermato il secondo caso di paziente positivo al coronavirus a Grottaglie, l'uomo ricoverato nell'ospedale Muscati di Taranto sarebbe al momento in una situazione stazionaria. L'ASL ha messo in atto il protocollo per la presa in carico dei contatti dell'uomo. Diversi sono i cittadini grottagliesi in quarantena fiduciaria ed intanto il paziente numero uno della città delle ceramiche sarebbe in buone condizioni. Con l'augurio di una pronta guarigione ad entrambi, a comunicarlo è stato il sindaco della città delle ceramiche, Ciro Dalò, attraverso un messaggio social, cogliendo anche l'occasione per ricordare ancora una volta che l'unica medicina in nostro possesso al momento è quella di restare in casa. Mi è appena stato confermato il secondo caso di coronavirus a Grottaglie. Si tratta di una persona attualmente ricoverata presso l'ospedale Muscati per eseguire tutti i protocolli di routine, in una situazione stazionaria e a lui va il nostro blocco al lupo, così come va a tutta la sua famiglia. L'ASL ha messo in atto tutti i protocolli per risalire tutti i contatti della persona in questione, sono tutti stati già presi in carico, nessuno di questi presenta sintomi, ma comunque sono tutti già in quarantena fiduciaria. Colgo l'occasione per ribadire la necessità di rimanere in casa perché è l'unica medicina che abbiamo per evitare il contagio. E sta facendo discutere a Francavilla Fontana la proposta lanciata dalla consigliera comunale Anna Ferreri di devolvere le indennità di funzione dei mesi di marzo e di aprile da parte del sindaco, assessori comunali e portavoce ad una struttura che si sta occupando dell'emergenza coronavirus. Per il presidente del Consiglio, Domenico Attanasi, è una proposta buona per qualche like, in quanto il Comune ha già avviato le procedure per una raccolta fondi. Il momento è difficile per tutti e le famiglie prive di reddito mostrano segnali di difficoltà. A Francavilla Fontana sta facendo discutere la proposta formulata dalla consigliera comunale di opposizione Anna Ferreri, lanciata al sindaco, assessori, consiglieri comunali e persino al portavoce del sindaco, cioè quella di devolvere le indennità di funzione dei mesi di marzo e di aprile ad una struttura o ente da individuare, impegnate a fronteggiare l'emergenza ai virus. Nell'assoluta libertà, ognuno potrà, dice Ferreri, dare un contributo attraverso un apposito conto corrente. Per la Ferreri si tratterebbe di un segnale da parte delle istituzioni. Una proposta questa che ha colto di sorpresa il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Attanasi. Citando Seneca, vale a dire che la beneficenza la si fa in silenzio e non in maniera ostentata, la proposta lanciata dalla Ferreri in pompa magna è buona solo per guadagnare qualche like. Dall'altra parte fa sapere sempre Attanasi quale apporto potrebbero dare i consiglieri comunali, visto che l'indennità per i mesi di marzo è pari a zero non essendosi svolti né consigli comunali né commissioni consigliari. Quanto al portavoce, Attanasi precisa che a tutti gli effetti si tratta di un lavoratore dipendente. Ognuno, insomma, potrà ritenersi libero di contribuire nella misura che riterrà opportuno, visto che sono state avviate le procedure per una raccolta fondi, il tutto da parte del Comune, senza alcun protagonismo. Da giorni a state i volontari della protezione civile sono impegnati nella realizzazione di mascherine, messo in piedi un vero e proprio laboratorio. Vengono consegnate al Comune che provvede poi a distribuirle ai cittadini. Una vera e propria gara di solidarietà state da protezione civile si è attivata con a capo Giorgio Simeone per la produzione di mascherine. All'opera da tre giorni, ininterrottamente, cinque volontari. Un gesto utile a rispondere alle esigenze del Paese in questo momento in cui risulta difficile trovare mascherine. La mascherina è un po' diversa da tutte le altre. È una mascherina, come dicevo, in cotone, però all'interno ha un filtro che a fine serata quel filtro va buttato, si lava la mascherina che è in cotone e diamo anche dei filtrini in sostituzione. Le mascherine protettive sono realizzate in cotone nella parte interna e TNT all'esterno. Interamente lavabili, nei prossimi giorni sarà il sindaco di Statte a fornire la cittadinanza statese le mascherine per combattere il Covid-19. Grazie alla protezione civile e all'interessamento dell'arcobaleno un gruppo di mamme volontariamente si è messo a costruire delle mascherine da poter dare in dotazione alla nostra popolazione. Queste persone autonomamente hanno deciso di acquistare la stoffa, l'elastico e tutto e come vedete stanno lavorando da due giorni a costruire queste mascherine. Una cosa che è sorta spontanea a cui va fatto tutto un encomio come dire un ringraziamento perché hanno visto la difficoltà non si riescono a trovare le mascherine e loro volontariamente e spontaneamente hanno deciso di costruire queste mascherine. Stiamo mettendo queste mascherine da parte che sono fatte artigianalmente con un tessuto a norma e quindi poi le daremo ai cittadini di Statte. E da Statte a Taranto perché nella città dei Due Mari la raccolta differenziata prosegue regolarmente soprattutto in quei rioni dove dal 3 febbraio scorso è stata avviata la modalità porta a porta esentato solo che è risultato positivo al tampone o si trova in quarantena. Nonostante tutte le difficoltà del momento dettate dall'emergenza sanitaria la raccolta differenziata a Taranto prosegue anzi non ha mai subito nessuna battuta d'arresto in particolare dove dal 3 febbraio scorso è stata avviata la modalità porta a porta. L'amministrazione comunale di Taranto aderendo a quanto disposto dall'Istituto Superiore di Sanità ha emanato un'ordinanza che riguarda gli utenti risultati positivi al tampone o in isolamento o in quarantena obbligatoria per i quali viene confermata l'esenzione dalla differenziazione dei rifiuti. Non avete smesso di fare la raccolta differenziata che è una cosa che va avanti senza sosta la città sta rispondendo molto bene e siamo molto contenti vedremo frutti anche economici da questo punto di vista nel prossimo futuro. Ovviamente sapete che abbiamo dovuto fare ricorso a una specifica ordinanza per consentire a chi è in quarantena o ha un problema connesso al virus in questo momento di sospendere la sua raccolta ma per tutti gli altri va avanti al punto che stiamo anche valutando come perfezionare il calendario e le iniziative che riguardavano il primo ciclo che era già partito su alcuni importanti quartieri come a Tamburi e a Palosesto e soprattutto non appena questo periodo di emergenza terminerà e ce lo consentirà partiremo con gli altri quartieri e completeremo per tutta la città la raccolta differenziata. È un segno di civiltà indietro non si torna e noi vi ringraziamo perché anche in questi momenti di difficoltà state dando il meglio di voi da questo punto di vista. Ed il Vescovo di Oria Monsignor Vincenzo Pisanello abolisce per quest'anno i riti e le processioni della Settimana Santa messe solo in via telematica e senza fedeli. Riti e processioni della Settimana Santa aboliti per quest'anno dal Vescovo della Deocisi di Oria che include parte delle province di Brindisi e Taranto per esattezza 11 comuni a 2043 parrocchie. Monsignor Vincenzo Pisanello con un proprio decreto ha dato precise disposizioni per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana Santa del Trido Pasquale e della Santa Pasqua. In merito ai riti alle processioni il Vescovo Pisanello ritenendo il periodo di settembre non idoneo allo svolgimento ha deciso di abolirli per quest'anno. Come già preannunciato a Francavilla Fontana non si potranno rivivere stante la emergenza le conseguenti anche decisioni del governo ed ora anche della Curia Vescovilla e il pellegrinaggio dei Pappamucci del Giovedì Santo e la processione dei misteri con al seguito i crociferi. I fedeli invece potranno seguire le celebrazioni eucaristiche ove previsto in forma telematica. Nella lettera consegnata ai parroci e ai religiosi e ai diagoni il Vescovo di Oria nell'impartire la sua benedizione invoca la materna assistenza della Beata Vergine insieme a con la protezione di San Barsanofio e dei Santi Medici sugli ammalati sul personale sanitario sui ricercatori scientifici sulle forze dell'ordine e su tutti coloro che svolgono un servizio pubblico necessario in questa emergenza epidemica. Ed un'ultima ora appena giunta un nuovo caso positivo di coronavirus a Martina Franca nel Tarantino. Abbiamo detto più volte nel corso di questa edizione del telegiornale intorno alle 19 è giunto il bollettino ufficiale da parte della Regione Puglia che naturalmente parla di casi e li suddivide 89 casi per l'esattezza nelle ultime 24 ore e li suddivide per provincia di appartenenza. Poi la scelta dei primi cittadini o insomma di autorità competenti di comunicare il comune di appartenenza. Arriva dunque da Martina Franca questa nota si tratta di un concittadino già ricoverato al Moscati di Taranto dal 15 marzo scorso. Il paziente è stato sottoposto in quella data ad una prima valutazione nelle tende messe a disposizione dell'aeronautica militare che consentono un pre-triage senza entrare in ospedale perché poiché posizionate proprio dinanzi al nosocomio cittadino. Trasferito poi al Moscati è stato sottoposto a diversi tamponi con esito negativo e dopo un'ulteriore approfondita valutazione da parte dei medici è risultato positivo nella giornata di oggi. Essendo già in isolamento da diversi giorni le persone che devono cautelarsi sono coloro che lo hanno incontrato nei quattro giorni precedenti al 15 marzo che comunque il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sta allertando in queste ore. Quanto vi leggo è stato scritto dal primo cittadino della città di Martina Franca Franco Ancona. Al concittadino prosegue il sindaco e la sua famiglia va alla nostra vicinanza con l'augurio di guarire presto. Ci spostiamo velocemente un attimo a Taranto perché vi parliamo della sospensione del pagamento delle strisce blu che è stata prorogata fino al 3 aprile anche l'interruzione del servizio di spazzamento meccanico notturno subirà lo stesso slittamento contestualmente con la rimozione delle auto che non rispettano il relativo divieto di sosta. Questa disposizione ci allinea con le recenti decisioni del governo questo è quanto ha spiegato l'assessore alla polizia locale Gianni Cataldino ma soprattutto serve ad evitare che i nostri concittadini abbandonino il domicilio per ragioni diverse da lavoro salute o sussistenza. In tal senso i controlli della polizia locale sono sempre più stringenti e vengono condotti anche con modalità innovative oltre ai classici posti di blocco ha aggiunto l'assessore Cataldino i controlli degli esercizi commerciali su segnalazione stiamo anche affiancando le auto in movimento per verificare poi le giustificazioni all'abbandono del domicilio. Esiste vi ricordo un nuovo modulo di autocertificazione con il contestuale in esperimento delle sanzioni annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono le 19.51 il nostro telegiornale termina qui vi ringrazio per averci scelto per averci seguito vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione in diretta torna alle 22.30 subito dopo questo TG come sempre ci sono le notizie sportive vi ricordo che noi giornalisti siamo al lavoro per informarvi voi restate a casa buon proseguimento per averci seguito Grazie a tutti.